La start-up tecnologica Rabbit ha recentemente introdotto R1, un dispositivo assistente guidato dall'intelligenza artificiale, mirato a svolgere compiti digitali per tuo conto. Con sede a Los Angeles, Rabbit ha ottenuto un investimento di 30 milioni di dollari per questa iniziativa, esponendo il loro prodotto innovativo al CS 2024 a Las Vegas. Guardiamo insieme la demo. Jesse, il fondatore e CEO entusiasta e visionario di Rabbit, cattura il suo pubblico con una presentazione completa sulle ultime innovazioni della sua azienda, inizia introducendo la missione ambiziosa di Rabbit, rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia creando il computer più intuitivo di sempre, uno che non richiede alcuna curva di apprendimento per l'utente. Jesse sottolinea che la chiave per raggiungere questo obiettivo sta nel distaccarsi dai tradizionali sistemi operativi basati su app che dominano gli attuali smartphone, proponendo invece un approccio rivoluzionario incentrato sull'elaborazione del linguaggio naturale, esamina criticamente le carenze degli attuali dispositivi mobili come iPhone e telefoni Android, che, nonostante l'avanzata hardware, sono appesantiti da sistemi operativi dipendenti da app. Jesse illustra le frustrazioni che gli utenti affrontano con questi dispositivi, come il processo ingombrante di navigazione attraverso innumerevoli app e l'affrontare una moltitudine di pulsanti e comandi per compiti semplici. Sostiene che gli smartphone, originariamente progettati per essere intuitivi, sono diventati sovraccarichi e inefficienti a causa del gran numero di app disgiunte. Jesse poi passa a discutere la storia dell'intelligenza artificiale nella tecnologia consumer, in particolare gli sforzi di giganti tecnologici come Apple, Microsoft e Amazon con i rispettivi assistenti IA, Siri, Cortana e Alexa. Fa notare che, sebbene questi fossero passi nella giusta direzione, spesso sono venuti meno nella comprensione o nell'esecuzione dei compiti in modo efficace. Tuttavia, Jesse nota che i recenti progressi nei grandi modelli di linguaggio LLM hanno migliorato significativamente la capacità delle macchine di comprendere il linguaggio umano, come evidenziato dalla crescente popolarità di chatbot. Nonostante questo progresso, riconosce i limiti attuali di queste tecnologie, in particolare nell'esecuzione di compiti dall'inizio alla fine. Per colmare questo divario, Rabbit introduce il suo concetto rivoluzionario, il Large Action Model LLM. Jesse spiega che LLM è un modello fondamentale progettato per comprendere ed eseguire le intenzioni umane sui computer. Questo modello, afferma, può interagire con qualsiasi interfaccia software, offrendo così una soluzione universale alle sfide poste da, API e altri agenti digitali. Jesse svela con orgoglio R1, il dispositivo mobile di punta di Rabbit, che incarna la loro visione innovativa. R1, alimentato da Rabbit OS e dal Large Action Model, è un dispositivo completo e facile da usare, dotato di funzionalità come un touchscreen, un pulsante push-to-talk, una ruota di scorrimento analogica, un microfono all'avanguardia, altoparlanti e una fotocamera unica a 360 gradi chiamata Rabbit AI. Spiega che R1 è progettato per un'interazione fluida e in tempo reale tra l'utente e il dispositivo, evidenziando la sua capacità di comunicazione rapida ed efficiente. Durante la presentazione, Jesse dimostra le impressionanti capacità di R1. Mostra come il dispositivo possa rispondere rapidamente a domande e svolgere compiti come riprodurre musica o fornire prezzi delle azioni, tutto con notevole velocità e precisione. Sottolinea la versatilità del dispositivo nel gestire vari compiti, dalla navigazione web alla prenotazione di corse. Inoltre, Jesse affronta le preoccupazioni sulla privacy, assicurando al pubblico l'impegno di Rabbit per la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati. Spiega che, interagendo con app e servizi di terze parti, R1 reindirizza gli utenti alle rispettive pagine di login senza memorizzare credenziali personali o tracciare dati degli utenti. Dimostra quanto facilmente R1 possa gestire compiti quotidiani, iniziando con ordinare una corsa. spiega che R1 può consigliare e prenotare un Uber quarantesimo, tenendo conto del numero di passeggeri e dei loro bagagli, tutto con una semplice voce. Jesse poi passa a dimostrare la capacità di R1 di ordinare cibo. Richiede una pizza da 12 pollici da Pizza Hut, e R1 effettua efficientemente un ordine per l'opzione più popolare, confermando i dettagli come il tipo di crosta e i condimenti con Jesse prima di finalizzare l'ordine. Questa dimostrazione evidenzia la comprensione di R1 delle preferenze dell'utente e la sua capacità di interagire senza problemi con servizi esterni. Successivamente, Jesse illustra come R1 possa gestire compiti più complessi che richiederebbero tipicamente più app su uno smartphone. Chiede a R1 di pianificare un viaggio di famiglia a Londra, dettagliando requisiti specifici come voli economici diretti, posti raggruppati, un suffigo e un hotel con Wi-Fi. R1 risponde esplorando varie opzioni e presentandole per la conferma, semplificando l'intero processo di pianificazione del viaggio. Jesse poi richiede un programma di attività per il viaggio a Londra. R1 crea prontamente un piano di viaggio dettagliato, includendo visite a monumenti, musei, ristoranti e quartieri, offrendo anche di prenotare biglietti per eventi. Quando Jesse trova il programma troppo intenso, R1 si adatta rapidamente e presenta un itinerario più rilassato, dimostrando la sua adattabilità al feedback degli utenti. Evidenziando le capacità di R1 come strumento di comunicazione, Jesse menziona il suo traduttore e blocco note integrato in tempo reale, in grado di rilevare e tradurre lingue parlate nell'ambiente, rendendo la comunicazione internazionale senza sforzo. La fotocamera di bordo di R1, soprannominata Rabbit Eye, è capace di una visione computerizzata avanzata, consentendole di analizzare l'ambiente circostante e intraprendere azioni in tempo reale. Jesse dimostra ciò chiedendo a R1 di suggerire un piatto a basso contenuto calorico in base al contenuto del suo frigorifero, mettendo in mostra la capacità di R1 di fornire soluzioni pratiche e quotidiane. Ulteriormente dimostrando la versatilità di R1, Jesse mostra come possa assistere con compiti legati ai documenti. Chiede a R1 di modificare una tabella di questionari di lavoro, e il dispositivo elabora prontamente la richiesta e invia il documento aggiornato via e-mail. Jesse introduce la modalità insegnamento, una funzione che consente agli utenti di insegnare nuove competenze a R1. Dimostra ciò guidando R1 attraverso il processo di generazione di un'immagine utilizzando una specifica applicazione, evidenziando le capacità di apprendimento del dispositivo. In conclusione, Jesse affronta potenziali preoccupazioni sulla necessità di un nuovo dispositivo come R1 quando le persone possiedono già smartphone. Sottolinea che R1 non è inteso per sostituire i telefoni, ma per rappresentare una nuova generazione di dispositivi alimentati dall'IA, offrendo capacità ben oltre ciò che gli attuali telefoni basati su app possono raggiungere. Jesse conclude la sua presentazione discutendo il prezzo di R1, paragonandolo alle offerte attuali del mercato e sottolineandone l'accessibilità e il valore. Annuncia che R1, prezzato a 199 dollari senza costi aggiuntivi di abbonamento o spese nascoste, è ora disponibile per l'ordine, con spedizioni previste per l'inizio del 2024. Jesse esprime il suo entusiasmo per la possibilità che le persone possano sperimentare R1 di prima mano, concludendo la sua dimostrazione completa di questo dispositivo rivoluzionario. Trovo tutto ciò assolutamente incredibile. Cosa ne pensi della demo? Condividi i tuoi pensieri su R1, resta sintonizzato per gli aggiornamenti su questo straordinario prodotto e le ultime novità in tecnologia e intelligenza artificiale.